Billy, ragazzo mio Che cazzo è questo? Beh, sono i miei, i miei, i miei compiti No, questo è del tutto sbagliato Buu, vattene via da qui Buu Ehi, fratellino Lo sai cosa succede quando un bambino prende delle F a scuola? Non lo so, fratellone Che cosa succede? È una pizza Una pizza? Una pizzeria Dai, bello, dammi i tuoi soldi Oh, ma come ti permetti? Io sono trans... Oh, un disegno! Tu pagherai per il muro. Che? Tu pagherai per il muro. Non ti sento, non intendo. Tu pagherai per il muro. Senti, amico, io non capisco, non c'è un muro, non... No, è una recinzione, è una recinzione, è una recinzione, tu puoi sentirmi, tu pagherai per il muro. Senti, se devi comportarti come un pendejo, non pagherò per il muro. Oh, quindi puoi sentirmi. Che? Buongiorno, qual è il problema? Qualcuno è razzista al contrario con me. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? È il razzismo al contrario. È il razzismo al contrario. Ma questo è solo razzismo? Questo è solo razzismo? Che cos'è il razzismo al contrario? È essere rispettoso nella tua razza? Che cosa? Che cos'è il razzismo al contrario? Esiste! Cosa? Ah, aiutami! Ah, aiutami! Cosa sta... Cosa è successo? Qualcuno mi ha stuprato al contrario! Cosa? Cosa? Sì, stupro al contrario contro di me! Ma... Ma... Tu sei una donna! Come ti permetti? Mi stai scambiando di sesso! Io sono un uomo! Iiii... Quella era un'esplosione al contrario? La 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 la... Ti piacerebbe sentire delle mie opinioni sui transessuali? Ehm... No... Vorrei solo giocare... Sei un transomofobo! Ma... Ma... Ma no... Io... Volevo solo giocare... No... Tu sei una transomofoba! Tu non sei interessata! No... Non mi piace questo gioco... Giocherò a Mario Kart! Yahoo! Senti qualche opinione sui transessuali? Che cos'era quel rumore? CHE HA FATTO QUESTO BEVERLY E' STATO TRUMP MAMMA TE LO GIURO E' STATO TRUMP TRUMP MAMMA IO LO ODIO TANTISSIMO I can't do NO BEVERLY NO HA DETTO LA PAROLA CON LA N Eheh, è tempo di dare un pugno a un nazista Eheh, ho dato un pugno a un nazista Sono Papà, voglio essere indipendente No Ah, diventerò indipendente da sola No Tu sai cosa? Sai cosa? Non ho bisogno dei tuoi sì Diventerò indipendente da sola No No, non ho bisogno di essere indipendente No, no No, no Ehi, fratellone, lo sai cosa succede a Las Vegas? Non lo so, fratello, cosa succede? PASTA PASTA? No Ehi, ha usato la parola con... No, 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 no Cancrena Ehi, lui ha una cancrena I candidati per la presidenza sono Ilari E una papera con la tromba È tempo di votare Il vincitore è La papera con la tromba Signori Abbiamo una nuova arma per i nostri soldati Fatemi presentare a voi Avanti, avanti, vieni, vieni Perfetto, grazie mille Vi presento... La coperta magica Ehm... Che cos'è? Guarda qui, guarda qui Oh! È la nostra nuovissima arma Con la tecnologia più nuova per combattere i nostri nemici E fatemi raccontare È così bello e così buono Signor Presidente, dove sono i test per la nostra nuova arma? Fammi dire una cosa Tu l'amerai Billy Tu hai preso una F Ma... Ma... Ma perché? Ma perché? Ma perché? Perché è questo Questo è tutto sbagliato Oh, sta zitta, put... Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? me I too I I million Tous Che cos'è?